Bene, bene, sono contento di essere qui, quindi non vedo l'ora di conoscere i miei compagni e di iniziare a fare gli allenamenti. Sicuramente Monaco è stata la mia prima scelta, sia dall'inizio, quindi la prima volta che ho sentito che Monaco è interessato ho detto sì a questa squadra, quindi la trattativa è andata molto veloce, so che è una squadra che giocherà sempre per vincere trofei qui in Francia, è una tra i migliori, quindi sono davvero molto felice di venire qua. Penso che lo dire al campo, quale tipo di giocatore sono, penso di aiutare ai ragazzi in campo, ma anche la società, quindi alla fine parlerà sempre al campo. Io darò sicuro massimo in allenamenti, in tutte le partite, quindi spero che tutti i tifosi e la società saranno contenti di me. Come è uguale come a Torino, anche qui sono il primo giocatore polacco, quindi per me è un doppio piacere venire qui e fare anche una parte della storia del mio paese, quindi ripeto, è doppia soddisfazione. Giocare per vincere tutte le partite, lascerò tutto in campo sempre, il campo dirà, spero che non deludo nessuno, sia quelli che lavorano qui nel club, sia il tifosi, quindi ripeto, tutti insieme dobbiamo andare avanti e sempre puntare sull'alto. Da che mi ho nebo, se ho detto bene, non so.